Nel 1985 conquista il secondo posto al festival Oano Cabaret. Nel 1986 figura nel vivaio di giovani comici proposti da Pipo Baudo in Fantastico 7. Partecipa anche a Drive-In di Antonio Ricci. In quel periodo recita nel film Tango Blu di Alberto Bevilacqua. Proseguendo quindi in tv con le trasmissioni Jeans e Avanti senza spingere e realizzando alcuni dischi e programmi radiofonici per rete 105 Network.